entriamo velocemente su reddit allora è che se usassi le cuffie eviteremmo di fare grazie piccola ok no grazie pioggia è una cosa di me dire non non ho mai seguita residente dell'ambiente favelas favelas perfetto città carati natali al noto ricercatore enrico menza sei risultati pi ne rolo ok ciò me arcaico ormai in disuso 7 mi dissocio no avanti savoia titolo dell'album di carrozzelli roazzi chopin baule con un show per il suo meme unico poco con nome e cognome carlo costa carlo costa sono facili pietro grande artista contemporaneo cascalilla risposta anch'io gioca a scacchi tu giochi a scacchi capo branco di favori e qua in copertina ciccio game attaccante del metodo ometro e su e perfetto e anche questa e anche questo mese l'abbiamo svoltata grazie comunque bro grazie di aviero alternati gira alchimiche ascolta il vocale di akimi che vuole la maglia di akimi al pg ok ok non c'è niente di strano modificato in fana sabi pretende di vedere i contenuti dell'aio modificato particolarmente esigente ecco dove l'abbiamo trovata grazie christian è la live di ieri di canna vacciolo lo sciocco quando faccio non la prova è grazie siete troppo esigenti non non ci posso fare niente non ci posso fare niente se siete così esigenti siete troppo esigenti epico ritorno su forno in altra sera più piccoli easter egg da scovare non sono io non sono io non sono io grazie bucce ma non sono io non ho giocato a fortnite tiz ambassador dito che big luca è stato arrestato vai a vedere il suo video che spiega l'accaduto va bene grazie papi mario agosto 2021 ciao ciao grazie per avermi concesso questa intervista figurati la prima domanda che voglio farti è come conosciuto big luca attraverso una pubblicità su facebook saranno passati almeno tre non cadono nelle trappole di big luca yes sir questo è per chi ha visto ieri la reaction grazie 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 frana grazie serio fra questo è per chi ha visto ieri la reaction ma qual è il problema di questo ristorante il problema è gigi e chi è il suo gigi fa proprietario è anche il cuoco cucina male si comporta male per i clienti la cucina e tu cosa fai ok queste erano le skills 21 22 di gigi grazie bucci la cucina di omi non fumo ganja è una partita da qualcun altro la shit storm grazie serio o aggiornamento d'onda kenny ha aggiunto l'immagine del profilo di star risultato anche probabile spoiler di un feat con anche e il coro nell'album questo spiegare abilità di riuscita dell'album nella seconda immagine si nota anche che che ha iniziato a seguire hank non me la immagino proprio da il profilo instagram di cagli west con la faccia di hank anche se potrebbe essere grazie bro potrebbe essere un bel un bel crossover ma sfortunatamente sarò serio non mi ce lo vedo hank giurlarino fischiettante 1872 non sono io non sono io non sono io il giurlarino fischiettante basta c'è un'immagine che mi ha mandato diego nasca perché dice visto che tutti ti dicono che sei una specie di rettiliano questa è l'immagine che mi ha mandato diego nasca va beh andiamo andiamo avanti grazie carlo ma chiesto pazzo grazie piccola grazie renzo seguimi dietro di te sono io sono me stesso grazie piccola potresti mandarmi un bacio non sono mie grazie bro non 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 c'entro niente quando farò qualcosa di mio ve lo dirò grazie gigi ah devo far vedere una cosa però mi sa che ve la devo far vedere sfortunatamente dal telefono ciao ragazzi ciao ragazzi un bacio sono tanto sentate fateci riso ci riso che balli giuppi giuppi sta chiamando oh 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 no si un attimo eccomi è arrivato oddio ciao ragazzi mi fanno molto ridere mi fanno molto ridere grazie piccola saluti polacchi un giorno ti offrirò delle sapie kanka con gula grazie Gregor grazie quel top leg lui top leg grazie oh finalmente ho abbastanza tutta mia per fare la cosa che amo di più va beh mi sono rotto i coglioni ragazzi mi sono rotto i coglioni mi sono rotto i coglioni vado a fare qualcosa che veramente mi piace fare grazie piccola ok sono calmo sono calmo sono calmo sono calmo sono calmo sono calmo calvinus tutta la notte il sottoscritto che ci ha giocato per sei ore che è più della notte eccoci hank hello hello my brother ma io non ho capito una cosa tu hai finito tutto il gioco o solo il primo capitolo perché cos'è guardando online ho visto che la media di tempo per comprendere per concludere il gioco si attesta intorno alle otto ore quindi se tu l'hai finito in sei sei stato anche veloce l'ho finito si tutto ci sono sei finali io li ho fatti gli ho fatto uno dei sei finali bro non è che ora devo farli tutti i finali ho fatto uno dei finali che mi competeva ecco vedi vedi titoli di coda vuol dire che il gioco ho finito essere ciao alessandro perché in sardo l'hai perché ho io sono una persona che che compone le frasi dalla fine poi inizia ritorna all'inizio per cui io penso all'ultima parte della frase per poi comporre il resto che è così che fai anche freestyle esatto esatto vivo una vita da freestyler le 50 date più importanti ah ma tu non stai vedendo le 50 date più importanti della storia mi fa piacere che per chi si sia fatto una pistolettata nei coglioni abbia comunque potuto finirlo di vedere senza aiuti vabbè tu vai gioca un po' poi in caso tu mi evochi io torno va bene va bene tanto che guardo dalla chat non l'ho guardato oggi apposta per guardarlo con te cioè per vedere come lo facevi tu grazie e vediamo cosa succede vediamo cosa succede ah e questa era grazie mille ultime parole famose beh vabbè ma poi ho chiesto se volevi hai detto di no no l'avevo presa come sfida personale eh i buoni che piacciono ai modificati grazie grazie sgar di nulla e ciao erano cose cose di altri tempi finiamo subito e poi cambiamo gioco 5 ore di loop temporali eh grazie piccola calcola ieri sera adesso c'è tu per finirlo è stato a giocare fino alle 6 mattina ah le 5 ore è un tempo medio noi ci siamo stati tre ore e mezzo ma tre ore e tre quarti ma non è che è una gara voglio dire ci si sta più o meno sulle 5 ore quello è il tempo di gioco però poi per fare tutto non è una gara 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 grazie Fabio buonasera omi buonasera ieri che strello ciao Fabio vabbè siete cresciuti con 12 minutes oh 5 giorni fa ma è incredibile hai ripreso una gag del futuro nel passato grazie X grazie piccola oh questo è relatable grazie Bucce lo facciamo salire piano piano oh io voglio fare le maglie con Hello Kitty non mi cagano non mi cagano non conosco nessun contatto italiano voglio fare il merchandising con Hello Kitty cioè voglio o no perché non esiste mi piacerebbe vorrei mi piacerebbe mi piacerebbe scambiatol tutto scambiatol eccoli ah ma no no è vero il ragazzo di app non c'è bisogno di aggiungere nient'altro per questo mito un mito non prendete le mie parole come parole prendetele come cose dette da un tizio dietro ad uno schermo grazie mi fa piacere che mi hanno usata questa immagine con io in giacca e cravatta per dare più rilevanza alle cose che dico dovrei la prossima Irla la faccio in giacca e cravatta io sono rotto i coglioni grazie Redd ad agosto eh idea forte da parte tua no no senti non mi non mi paragonate per favore scompagnoni non mi paragonare di Guerrero a Giorgio non faccio Ir perché mi ha una cosa di detta non faccio Ir perché c'è troppa gente mi fermano tutti oh tutto hacking questo l'abbiamo già visto che disse il Masseo morto Omar sfortunatamente ah ok siamo ritornati lo zuderone era una prova di donare un meme a Reddit ok siamo tornati non 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 Ciao